ben tornati a tutti ragazzi e ragazze oggi nuovo video relativo alle cripto truffe in italia e vediamo come agire e proteggersi le criptovalute stanno diventando sempre più popolari e stanno rivoluzionando il modo in cui pensiamo ai soldi e alle transazioni finanziarie tuttavia con l'aumento dell'interesse per le criptovalute è aumentato anche il numero di truffe e di schemi fraudolenti che mirano a separare gli investitori dal loro denaro in italia come in molti altri paesi le autorità stanno cercando di tenere il passo con l'evoluzione del mercato delle criptovalute e di proteggere i consumatori dalle truffe ed è importante che anche gli investitori siano consapevoli dei rischi e sappiano cosa fare nel caso in cui cadano vittima di una truffa come riconoscere una truffa cripto le truffe in ambito cripto possono assumere molte forme diverse ma ci sono alcuni segnali di allarme comuni che dovrebbero mettere in guardia gli investitori ecco alcuni dei segnali più comuni offerte di investimento che promettono rendimenti elevati e senza rischi in generale se un'offerta di investimento sembra troppo bella per essere vera è probabile che lo sia pressione per investire immediatamente i truffatori spesso cercano di creare un senso di urgenza per convincere gli investitori a prendere decisioni affrettate mancanza di trasparenza se un'offerta di investimento non fornisce informazioni dettagliate sulle attività sottostanti o sul segnale di allarme richieste di inviare denaro a un indirizzo wallet sconosciuto in generale è importante non condividere mai le chiavi private del proprio wallet con nessuno e non inviare denaro a un indirizzo wallet senza aver verificato l'affidabilità del destinatario prima di investire in una piattaforma o in un'offerta di investimento è importante fare sempre una ricerca approfondita e verificare l'affidabilità della controparte ecco alcuni consigli su come fare cercare recensioni e opinioni online da parte di altri utenti o investitori verificare se la piattaforma o la società è autorizzata e regolamentata dalle autorità competenti come la consob o la banca d'italia contattare direttamente la piattaforma o la società per porre domande e richiedere informazioni aggiuntive cosa fare in caso di truffa se si sospetta di essere caduti vittima di una truffa in ambito cripto è importante agire rapidamente per cercare di limitare i danni ecco alcuni passi da seguire denunciare la truffa alle autorità competenti in italia la polizia postale e delle comunicazioni e la consob sono le autorità principali che si occupano di truffe in ambito finanziario ed è importante fornire loro tutte le informazioni e la documentazione disponibili sulla truffa raccogliere e conservare tutte le prove e la documentazione relativa alla truffa questo può includere email messaggi transazioni indirizzi wallet e qualsiasi altra informazione rilevante contattare la propria banca o il proprio fornitore di servizi di pagamento per bloccare eventuali transazioni sospette se si è inviato denaro a un truffatore utilizzando una carta di credito o di debito è possibile contattare la propria banca per richiedere il blocco della transazione e eventualmente il rimborso tuttavia è importante notare che non tutte le banche offrono questa opzione per le transazioni in criptovalute evitare di cadere nella truffa del recupero fondi dopo aver subito una truffa è possibile che si venga contattati da persone che promettono di recuperare i soldi persi in cambio di un pagamento anticipato queste persone spesso si spacciano per avvocati o investigatori privati ma in realtà sono truffatori che cercano di approfittare della situazione ed è importante non cadere in questa trappola e non inviare mai denaro a persone sconosciute come proteggersi dalle truffe cripto per proteggersi dalle truffe in ambito cripto è importante adottare alcune misure preventive ecco alcuni consigli utili utilizzare piattaforme di scambio affidabili e regolamentate prima di effettuare transazioni in criptovalute è importante verificare che la piattaforma di scambio utilizzata sia autorizzata e regolamentata dalle autorità competenti ed in italia la consob ha pubblicato un elenco di piattaforme di scambio autorizzate fare attenzione alle offerte di investimento che promettono rendimenti elevati e senza rischi come detto in precedenza se un'offerta di investimento sembra troppo bella per essere vera è probabile che lo sia ed è importante fare sempre una ricerca approfondita e valutare attentamente i rischi prima di investire non condividere mai le chiavi private del proprio wallet con nessuno le chiavi private del proprio wallet sono come la password della propria banca online è importante non condividerle mai con nessuno nemmeno con persone fidate tenersi aggiornati sulle ultime notizie e tendenze in ambito cripto il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione e possono emergere nuovi rischi e truffe quindi è importante tenersi aggiornati sulle ultime notizie e tendenze per essere sempre informati su eventuali rischi e truffe conclusioni le truffe in ambito cripto possono avere conseguenze devastanti per gai gli investitori sia in termini di perdite finanziarie che di stress emotivo bisogna essere sempre cauti e informati quando si opera in questo settore e seguire le misure preventive elencate in questo articolo per proteggersi dalle truffe in caso di truffa è importante agire rapidamente e denunciare la truffa alle autorità competenti raccogliere e conservare tutte le prove e la documentazione relativa alla truffa contattare la propria banca o il proprio fornitore di servizi di pagamento per bloccare eventuali transazioni sospette e soprattutto evitare di cadere nella truffa del recupero fondi ricordiamo che le criptovalute sono uno strumento finanziario ad alto rischio e che è importante investire solo denaro che ci si può permettere di perdere inoltre è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore per ottenere consigli e informazioni su piattaforme strane o particolari ed il team di Hoken Tech fornisce supporto anche sotto quel punto di vista ed ha aiutato diverse persone sotto quel punto di vista se sei rimasto affascinato da come la blockchain ed NFT stanno trasformando il mondo e vuoi saperne di più non puoi perderti questo video esclusivo clicca subito per scoprire di più su questa rivoluzione e rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni nel settore